E' una giornata tranquilla a Traviate. L'uomo che vedete è Ivan Bostik, un compositore di sinfonie per cellulari. Ivan cammina con moto uniforme e leggiadro, ignaro dell'atroce svolta che il destino ha in servo per lui. Niente sembra infatti presagire ciò che sta per accadere, ma nonostante tutto, all'improvviso, qualcosa va storto. Lui, l'uomo, si storce e va contro il muro. Ivan è allarmato, percuote la parete con costanza, ma non riesce a reagire. L'uomo è chiaramente vittima di un forte attacco di sindrome di sbattimo, che in pochi secondi lo costringerà ad accasciarsi al suono. In queste immagini lo vedete sbattere qua e là nel tentativo di tornare a casa per legarsi ad una sedia. Per lui non ci sarà scappo, il muro lo annienterà. Per lui non ci sarà scappo, il muro lo annienterà.